questo che vedete qui è l'amazfit gtr uno smartwatch o meglio sport watch davvero molto popolare di uami che è uscito sul mercato da poco tempo e già sta riscuotendo molto successo infatti ho fatto questo video perché molti di voi quando ho pubblicato la storia di questo orologio ovviamente senza indicare informazioni mi avete chiesto di che tipo di orologio si trattasse e in 800 persone avete cliccato sulla sulla seconda storia con lo swipe per vedere di che prodotto si trattasse un orologio elegante ma nella sua veste interna abbiamo un vero e proprio sport watch perché è dotato non solo di gps più blona ma ci sono tutte le funzioni dedicate per ogni tipo di sport e visto che l'orologio è davvero molto molto figo e costruito nei minimi dettagli voglio mostrarvi come è composta la scocca di questo prodotto ceramica e acciaio ovviamente tutto fisso non c'è una ghiera regolabile sulla parte destra abbiamo due pulsanti che permettono quindi il ritorno sulla schermata principale un altro che possiamo personalizzare quindi dall'applicazione stessa possiamo scegliere cosa avviare l'orologio nonostante ciò ci permette anche di poter acquistare nuovi cinturini visto che sono intercambiabili e molti sono comunque compatibili anche con altri modelli amazfit come vedete il bello di questo smartwatch è che risulta elegante grazie comunque alla pelle di colore marrone fuori ma la struttura è comunque comoda perché in gomma quello che notate è che ci sono anche queste ondulature per permettere quindi un ottimo grip del stesso cinturino al nostro polso e i fori comunque permettono di avere una regolazione sempre precisa quindi né troppo stretta né troppo largo e assicuro di una comodità eccezionale perché guardate la flessibilità di questo cinturino e nonostante il quadrante sia da 47 mm appare davvero molto bello e elegante per un uomo appunto c'è anche la versione da 42 mm che ha diverse colorazioni e può essere quindi acquistato anche dalle donne oppure c'è quella da 42 mm nera se la si preferisce ovviamente l'amazfit gode di diverse watch face che possiamo impostare ma le altre dobbiamo comunque scaricare dall'app amazfit l'applicazione può essere ovviamente unica e accorpare più dispositivi amazfit che avete quindi avremo comunque tutto in una sola schermata e andando poi a vedere il mio profilo come potete notare utilizzo due smartwatch in una sola app poi dalle impostazioni del gtr posso come detto scaricare i differenti quadranti che trovo sul sullo store speriamo quindi trovarne anche altre perché per ora ce ne sono ma sembrano molto simili tra loro posso gestire anche le notifiche app cosa più importante o disattivarle completamente oppure anche di disattivare la vibrazione o personalizzarla ho avuto davvero tantissimi smartwatch tra cui anche il gear s3 con il tizen os qualche android wear ma ero stufo di caricarlo ogni due tre giorni ogni giorno o al massimo 4 5 giorni per quello più duraturo e ho trovato un orologio che si è limitato ma mi permette comunque di tracciare le mie attività sportive e di ricevere notifiche tutto questo con un'autonomia di oltre 20 giorni quindi arriviamo anche a un fino al massimo di 24 pensate che si scarica del 4 5 per cento ogni giorno quindi pensate di non avere di avere un orologio che quasi tradizionale quindi non andarlo a caricare ogni giorno come facciamo con i power bank di smartphone e computer e quindi avere una sorta di libertà in questo senso è vero che anche dall'altro senso abbiamo uno smartwatch che è più passivo rispetto ai tradizionali perché permette di ricevere e personalizzare le notifiche quindi di gestire quali app ricevere notifiche di ricevere le notifiche di chiamate grazie a una lunga vibrazione ma di poter effettuare delle azioni limitate cioè se ci chiama qualcuno possiamo rifiutare l'ha chiamato silenziarla ma non possiamo rispondere perché non è dotato di microfono non possiamo rispondere ai messaggi ma possiamo soltanto leggerli non possiamo inviare un vocale non possiamo attivare il controllo vocale perché non c'è il microfono quindi tutte queste cose vanno comunque viste e va valutato che tipo di smartwatch volete questo che vedete è il quadrante per esempio questo è davvero molto molto fornito ci permette di avere informazioni sui passi sulla distanza in chilometri le calorie bruciate e il battito cardiaco per quanto riguarda quindi la ricarica è un fattore che va visto davvero di buon grado visto che abbiamo oltre 20 giorni di autonomia e sulla parte posteriori invece abbiamo quella che è la il sensore cardiaco e l'aggancio per poterlo caricare basetta davvero molto slim che possiamo portare con noi senza nessun tipo di problema ve la faccio vedere questa è la basetta va attaccata semplicemente dietro e va messo in carica perché non abbiamo un alimentatore dedicato all'interno della confezione ma abbiamo soltanto appunto questo cavo che può essere comunque caricato anche vicino al pc visto che comunque l'autonomia la batteria di 410 miliampere vi ricordo che abbiamo uno schermo amoled non trasflective che grazie comunque alla luminosità automatica ma può essere anche gestita manualmente ci permette di avere un'ottima leggibilità sia di sera e sia al sole davvero perfetto per quanto riguarda la qualità dello schermo comunque l'amoled da 1.39 è quello più utilizzato abbiamo anche una piccola torcia e altre varie funzioni quindi ha un funzionamento simile agli altri sempre tramite gli swipe e vi ricordo che inizialmente era molto più lento e la gava un po nel menu ma poi gli aggiornamenti comunque due in circa dieci giorni è migliorato notevolmente possiamo anche vedere il meteo che viene aggiornato direttamente dall'applicazione vi ricordo che questo dispositivo non ha wifi quindi comunicherà soltanto con il nostro dispositivo tramite bluetooth per quanto riguarda la musica quindi anche questa non è stand alone ma la avvierà quella che è presente sul nostro smartwatch possiamo rientrare nella sezione notifiche e andare a leggere tutte le notifiche ma non possiamo eseguire delle azioni come vi ho detto ci sono poi applicazioni ci sono poi applicazioni come bussola cronometro contro la rovescia e c'è anche la possibilità di cercare il dispositivo tramite bluetooth se l'abbiamo perso e viceversa dalle impostazioni poi è possibile cambiare il quadrante attivare sempre la modalità attiva in modo che non sia soltanto attivo per quei pochi secondi quando ruotiamo il polso e c'è poi la possibilità di impostare la luminosità dello schermo questo amazfit è comunque un prodotto secondo me ottimo che va assolutamente preso in considerazione è un prodotto che come ho detto elegante con la possibilità di cambiare cinturini ma allo stesso tempo di utilizzarlo come se fosse più un orologio che un vero e proprio smartwatch per ora questo è tutto fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodotto io nella descrizione vi lascio tutti i link di questo amazfit quindi decidete dove acquistarlo se su gearbest su amazon o sullo store ufficiale e vi ricordo che se c'è un coupon ve lo pubblico se non è disponibile al momento invece ve lo pubblico sul canale disconti offerte telegram dove siamo circa 90 mila utenti per ora questo è tutto un saluto e alla prossima